Ciao a tutti ragazzi e ragazzi io sono Gian... Io sono Sivi ed oggi siamo qui ragazzi in un nuovissimo video Oggi ragazzi siamo qui per affrontare un tema abbastanza serio Oggi siamo qui ragazzi per testare insieme alla mia dignità la tavola Ouija C'è mente qui sul mio telefono, ho scaricato l'applicazione della nostra tavola E oggi andiamo a fare la tavola Ouija e andiamo a vedere chi si nasconde nella nostra casa Volevo soltanto rassicurarvi che questi video sono veri Non sono assolutamente montati affinché di farvi credere che c'è veramente uno spirito dentro la casa mia Assolutamente no, è tutto vero, tutto registrato e programmato, vedete? Grazie al mio Apple Watch Allora innanzitutto però ragazzi un mio iscritto, non un amico che mi ha detto di farlo per fare più visual Un mio iscritto, un mio iscritto mi ha detto di chiamare questo numero C'è 17777777777 Oh mio Dio Oh mio Dio ragazzi, è uno spirito francese Ecco io lo sapevo, io lo sapevo, io lo sapevo ragazzi Io sono Scusate Io sono già in ansia Cioè ragazzi no eh, no, no Cioè veramente, che caldo Allora prendiamo la nostra tavola Ouija Adesso già sono spaventata Ok, qui abbiamo la nostra tavola Ouija come potete vedere Evidenza evidente cacchio Qui ragazzi abbiamo scaricato la nostra tavola Ouija Adesso prenderemo i nostri attrezzi da veri scovatori Quelli che trovano i fantasmi Una bottiglia Spiamo il tappo Adesso Adesso mettiamo il telefono così Mettiamo il tappo sopra E adesso ci mettiamo così ragazzi e aspettiamo Ok, siamo pronti C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Sì Oh mio Dio Ragazzi Avete detto anche voi Oh mio Dio Oh mio Dio No, 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 no ragazzi Adesso andiamo a controllare insieme No, no, non ho sentito solo io Non ho sentito Ragazzi Guardate Guardate Non si apre la porta Non si apre la porta Tarzan Tarzan Tarzan, dov'è? Shhh Chi è? Chi è? Ragazzi Ragazzi A casa mia non c'è nessuno Oh mio Dio Ragazzi Che angoscia Oh mio Dio Che angoscia mi ha messo Oh mio Dio Ragazzi mi sono cagata in mano Io ho sto quadro Maledettissimo In camera Mi sono cagata in mano Oh mio Dio Ragazzi Sono spaventata da solo Vabbè 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 Calmi 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 Chiudiamo 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 C'è scritto ragazzini Il regolamento Che queste cose Non vanno assolutamente Fatti da soli Perché sono così Stubbida Mannazza Non so nessuno Con cui fa stoviglio E fa serie visual Tutti a queste serie Su Netflix Ok 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 Chiudiamo 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 Ti prego Possiamo chiudere la seduta No Regà Sto rilardato Ha detto no Non so che cosa fare Ragazzi guardate Sto piangendo Ragazzi non so come fare Oh mio dio Che ansia Che ansia Che ansia Che ansia Oh mio dio Ragazzi si è mossa Ragazzi si è mossa la scarpa Ragazzi Si è mossa la scarpa da sola Si è mossa la scarpa da sola Guardatela Continua a muoversi da sola No no Non inquadrere qua Continua a muoversi da sola la scarpa Non so cosa dire Ragazzi sono Sono sotto shock Sono sotto shock Sono troppo sotto shock Sono 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 sotto shock Ragazzi provo a cercare qualcosa su internet A riguardo questa cosa Ma non vedo niente Oh mio dio Si è spento No ragazzi si è spento il computer No 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 Basta 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 ragazzi Io non ce la faccio più Mi sto letteralmente cagando in mano No 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 Ragazzi si è mossa la scarpa da sola L'avete visto? L'avete visto? Ragazzi Ragazzi questo quadro in realtà non c'è Si vedo soltanto dalla telecamera Cioè guardate Non c'è nessun quadro Guardate Poi faccio così E appare Vado Ragazzi scusatemi Poi dite che sono stupida Guardate 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 non c'è nessun Non c'è nessun Non c'è nessun quadro Guardate Guardate anche voi da vicino Poi Appena c'è la telecamera Eccolo No raga Io non Raga mi sto sentendo malissimo 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 Devo 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 riuscire a chiudere questa seduta No no Devo riuscire Devo riuscire Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Allora 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 Adesso Innanzitutto è tutto registrato Quindi sono Sono certa che questo video Spaccherà Poi, seconda cosa Ok Mettiamo il dito qui Possiamo chiudere la seduta? Sì, decidete O chiudi o non chiudi, tanto Dio Ma stai a dire che cosa vuoi? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Vai, dimmi S O L D I Ah, hai capito se ti mi fai Un po' di sorti Dove sono i sorti? Regà, vi posso dire la vita? Non ce la va a dire Ecco, ve l'ho detto Sentite Quella cioccolata Che costava anche 45 euro Era buona Vabbè, me la sono mangiata tutta Però adesso non c'ho sorti Di pagare sto spirito Non so come liberarmi Perché quest'anima oscura Dalla mia stanza Zì, mi potresti per favore lasciare Il tuo conto Paypal E poi Ti ha debito i soldi Te lo giuro Su un mouse Su un mouse che c'ho Te lo giuro, veramente Però basta che mi lasci andare Ti prego Ti prego Goodbye Sì Regà L'hiamo fregato L'hiamo fregato Sì, sì L'hiamo fregato Non c'è 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 Grazie a tutti